Dobbiamo tenere presente che se analizziamo i dati italiani come se fosse un'unica epidemia, facciamo male, ci sbagliamo, l'epidemia italiana è un insieme di epidemie non sincronizzate. Quindi in questo momento la curva epidemica ovviamente è trainata dalla Lombardia, che fornisce ovviamente da sola un numero altissimo di casi. Quindi quello che noi vediamo è quello che fondamentalmente sta succedendo in Lombardia. Questo è un dato incoraggiante perché come avete detto voi il numero dei morti diminuisce, il numero dei casi giornalieri diminuisce, quindi c'è appunto un segnale confortante sicuramente che viene da quella regione. Però dobbiamo analizzare molto bene i dati che vengono dalle altre regioni che si trovano in fasi diverse dell'epidemia, potremmo dire in fasi diverse di maturità dell'epidemia. E queste devono essere monitorate molto attentamente per evitare che si ripeta un'altra Lombardia in altre regioni d'Italia. Ecco, posso chiedere una cosa proprio a proposito di questa sua sottolineatura. Ieri c'è stato un allarme molto forte da parte del governatore della Campania De Luca, che ha detto che i prossimi dieci giorni da noi saranno un inferno, oltre a denunciare la mancanza di ventilatori polmonari, di mascherine, credo si definiscano siano le FP3, di dispositivi medici di protezione individuale. Le chiedo intanto, lei che ha il monitoraggio sulla Puglia, se condivide l'allarme di De Luca e qual è la situazione in prospettiva in Puglia? Allora, ovviamente non posso commentare sui dati della Campania perché non conosco i dettagli. Bisogna conoscere i dettagli, bisogna vedere qual è la curva epidemica sul singolo territorio per capire quello che potrà succedere nei giorni successivi. Quindi probabilmente se De Luca ha fatto questo allarme avrà dei dati che glielo abbiano in qualche maniera supportato. In Puglia la situazione non è questa. Noi ancora abbiamo ogni giorno un numero costante di casi, più o meno riportiamo 100 nuovi casi ogni giorno, costantemente, che da questo punto di vista per noi è una buona notizia, è ovviamente un'ottima notizia. Questo grazie ad un lavoro certosino di spegnimento dei focolai che si sta facendo sul territorio. Condivido con il governatore De Luca la preoccupazione per i dispositivi di protezione individuale. E anche lì bisogna fare una certa precisazione. Ricordiamoci che le famose mascherine FP2 e FP3, quelle con il filtro, sono importanti per proteggere l'operatore sanitario. Quindi sono fondamentali in quegli ospedali in cui si ricoverano i malati Covid, i malati con il coronavirus, per evitare che l'operatore si infetti. Negli altri casi noi stiamo assistendo invece un po' su tutto il territorio nazionale la circolazione del virus anche negli ospedali non Covid, perché magari si ricovera una persona con l'infarto, nessuno sapeva che era Covid e c'è qualche operatore che si infetta. In quel caso le mascherine chirurgiche devono essere utilizzate da tutti. In questo momento noi dobbiamo eventualmente ipotizzare che tutti quelli che entrano in ospedale sono potenzialmente infetti. Quindi far indossare una mascherina sia al paziente, sia a tutti gli operatori sanitari, e parliamo di mascherine chirurgiche, diciamo quelle di cui magari al momento esiste una disponibilità maggiore. Non vanno sprecate le FP3 su questo tipo di assistenza. Chiarissimo. Allora facciamo così. Abbiamo altre domande ovviamente per il professor Lopalco. Adesso però dobbiamo...